Penso che il risultato del campo lo dobbiamo accettare anche perché non è che possiamo dire altro. Però penso che nell'unico errore, se si può chiamare scelta sbagliata, che abbiamo fatto, abbiamo subito colmo, nell'unico tiro in porta, diciamo che non avevamo mai concesso niente, noi forse dovremmo essere un po' più concreti nel momento in cui dopo l'1-0 abbiamo avuto due o tre situazioni che bisogna essere un po' più determinate, più concrete per cercare di chiudere la partita e effettivamente non ci siamo riusciti, loro ci hanno sempre creduto. No, ma non è il caso di questa partita perché penso che in questa partita non abbiamo subito mai, forse ci siamo incosciamente, ci siamo abbassati qualche dieci metri in più, però abbiamo avuto la possibilità di ripartire due o tre volte e non ci siamo stati. La vittoria è mancata? Ma secondo me per quello che abbiamo fatto in campo, però dire che meritavamo di vincere oggi qua non serve a niente, accettiamo il risultato del campo, è inutile che campiamo scuse e andiamo avanti, però queste sono sicuramente quelle partite che ci devono fare riflettere, perché penso che in campo abbiamo fatto una partita che la volevamo vincere e non ci siamo riusciti nel momento in cui dovevamo approfittare del momento in cui abbiamo fatto il gol. si aveva la sensazione che si doveva fare gol da un momento all'altro, solo che non ci siamo riusciti.